Ci sono società, una villa di lusso, terreni e conti correnti del maxi sequestro a 7 milioni di euro effettuato dalla D.E. di Catania nei confronti di un imprenditore che, secondo gli investigatori, sarebbe vicino al clan Nardo di Lentini. L'uomo, 44 anni, originario di Megari Blea, è finito nell'inchiesta dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Blandino che avrebbe ricostruito i presunti rapporti fra l'imprenditore e uomini politici del comune di Augusta che nella precedente consigliatura venne sciolto per mafia. Secondo gli investigatori, l'uomo si sarebbe aggiudicato diversi appalti per lavori edili e nel settore del fotovoltaico in provincia di Siracusa. Fra le aziende, infatti, figura anche una che si occupa di energie rinnovabili di una società attiva nel settore delle corse dei cavalli.